Al via la quarta edizione dell'Aied Free Weekend. Tre settimane di visite senologiche gratuite per la prevenzione delle malattie delle ghiandole mammarie che si svolgeranno nel consultorio Aied dedicato alle donne. Le visite senologiche e le ecografie saranno eseguite nei giorni 5, 6, 12, 13 e 19 e 20 marzo. A disposizione delle donne dell'Aied ci saranno i medici Alberto Bafile, Walter Resta e la dottoressa Laura Pizzorno. È necessaria la prenotazione. Si tratta di fine settimana in cui l'Aied resterà aperto per permettere visite ed ecografie senologiche gratuite alle donne che lavorano e quindi nei fine settimana potranno permettersi, insomma, nei loro momenti liberi di poter pensare alla loro prevenzione. Aied Free Weekend è nell'ambito di un progetto più ampio che si chiama L'Aquila in Salute e che è partito ormai da due anni. Anche su questo progetto la fondazione Caric Spac ci è stata molto vicino e ci ha permesso quindi di potenziare il servizio di ginecologia e di creare il servizio di senologia. Nell'ambito del progetto L'Aquila in Salute stiamo iniziando un altro tipo di evento che è aziende in salute. È un modo per stare vicino alle donne che lavorano e offrendo diciamo alle aziende di poter pagare delle visite senologiche e delle ecografie per le loro dipendenti. Una novità importante dell'Aied Free Weekend di quest'anno è la collaborazione con il dottor Bafile, il responsabile della chirurgia senologica dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, la collaborazione con il dottor Reste e la dottoressa Laura Pizzorno e la collaborazione anche con le varie associazioni del territorio perché abbiamo cercato di privilegiare le donne che erano in una condizione di difficoltà per cui abbiamo contattato quelle realtà che sono vicine a famiglie più bisognose affinché potessero prenotarsi prima.